Domenica scorsa abbiamo vissuto il battesimo di Gesù e così abbiamo chiuso il tempo di Natale per aprirci al tempo ordinario e oggi il Vangelo ci propone il primo grande miracolo di Gesù, Cana, le nozze di Cana. Il primo miracolo di Gesù per il Vangelo di Giovanni non è considerato un miracolo nel senso che Giovanni non menziona mai la parola miracolo ma ogni miracolo di Gesù viene definito segno e ne elenca nove nel suo Vangelo. Chiama segni i miracoli di Gesù perché Gesù insegna, cioè segna dentro il nostro cuore. I miracoli sono delle opere che noi vediamo in funzione della nostra fede e allora abbiamo questo segno di Cana, un matrimonio molto particolare perché lo sposo c'è ma non parla e la sposa è assente. In realtà questo matrimonio di Cana è il simbolo delle nozze tra Dio, la Chiesa e l'uomo. Infatti lo sposo c'è, Dio è presente ma noi facciamo tacere la sua voce nella nostra vita. La sposa invece è assente, infatti ormai molti cristiani non vivono più la relazione con la Chiesa. Ecco questo triangolo tra lo sposo che è Dio, la sposa che è la Chiesa e la nostra vita di fede. Ecco che allora in questo matrimonio si rimane senza vino. E cosa rappresenta questo vino? Rappresenta la nostra umanità che appunto non sa cogliere la presenza di Dio, che non sa più amare la Chiesa e gli altri. Infatti ci sono solo più relazioni che sono consumate e stanche. Lo vediamo in famiglia, lo vediamo sul lavoro e lo vediamo anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni ecclesiali. Allora vediamo un attimo quali sono i veri protagonisti del Vangelo di questa domenica. E direi che sono tre. Sono Gesù, Maria e i servitori. Il primo appunto è Gesù. È un invitato solo perché è figlio di Maria. In un certo senso è un invitato di circostanza. E quando Gesù arriva spesso mi viene da pensare che lo fa sempre con altri dodici, con i suoi apostoli. E lui qua incontra Leggiare. Leggiare sono appunto questi contenitori di acqua. E sono sei. Innanzitutto questo numero ci fa capire che sono insufficienti. Perché il numero perfetto sarebbe sette. Queste giare sono fatte di pietra. Cioè sono pietrificate. Come tanti nostri cuori. E queste giare sono piene di acqua. Cioè sono insapore. Come tante vite di oggi. Ecco che allora la nostra vita e la nostra fede possono essere proprio come queste giare. Insufficienti. Cioè avere una fede scarsa o scaramantica. Un'andare a messa solo per obbligo. Una fede pietrificata. Cioè statica. Che non trasmette passione. Che non trasmette gioia. E una fede anche in sapore. Come l'acqua. Cioè che non ha gusto. E quindi che una fede che non ha gusto non riesce a essere donata agli altri. Anzi. Spesso diventa una controtestimonianza. Vedete che allora le giare sono il paradigma. Sono lo specchio della vita. Perché come vivi la fede di conseguenza vivi la tua vita. Se hai una fede come queste giare avrai una vita come queste giare. E infatti troppi cristiani si credono veri cristiani. Ma invece lo sono di circostanza. Sono sempre pronti a mediare con la fede. O ancora peggio pensano di conoscerla talmente bene che spesso cadono in incongruenze. In controtestimonianze. E poi c'è il secondo soggetto. La seconda immagine di questo Vangelo che è la Vergine Maria. È l'immagine della vera discepola. Del vero cristiano. Credibile e credente. Un cristiano si accorge subito quando manca la gioia nella vita. Ecco che Maria lo fa. Maria sa bene che la gioia è il frutto dell'incontro con Dio. Non dimentichiamoci che il primo invito che l'Angelo Gabriele fece a Maria fu rallegrati. Qui Maria è con Gesù a Cana. È ad una festa di nozze. Cioè è una festa che deve portare gioia. E l'ultimo invito che Gesù farà proprio sulla gioia sarà alla fine quasi del Vangelo di Giovanni al capitolo 15 quando dirà Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cioè il Vangelo di Giovanni tramite la parola di Dio, la parola di Gesù ci fa capire che il cristiano deve essere un uomo che rappresenta la gioia. E Gesù risponde alla mamma dicendo Donna, cosa vuoi da me? È un dettaglio che fa la differenza. Non la chiama mamma ma bensì la chiama donna. E lo rifarà solo in croce quando la consegnerà al piccolo Giovanni e quindi a tutti noi, a tutta la Chiesa. Lui inizia chiamandola donna e chiuderà la sua vita terrena chiamandola donna. Come per dire, da oggi, dalla nozze di Cana, mi hai donato al mondo e lo vedrai sulla croce quando sarai mamma di tutto il mondo e non solo più la mia. La terza immagine sono i servi. Come noi ci sentiamo servi del mondo perché tutti pretendono da noi. Quante volte sentiamo questa frase Faccio tanto per tante persone e poi nemmeno un grazie. Questi servi sono un po' come noi. Ascoltano Gesù, ascoltano la parola di Dio, vanno anche, tra virgolette, a messa. Ma fondamentalmente sono increduli. Hanno una vita, una fede stanca. Ma comunque, alla fine, si affidano alla voce di Gesù. Loro, innanzitutto, vedono il dialogo che c'è tra Maria e Gesù. E Maria dice chiaramente questa frase, che è l'ultima frase che sentiamo dalle labbra di Maria. Ed è, qualsiasi cosa vi dirà, fatela. È in pratica il testamento spirituale della Vergine Maria. Le ultime parole che Maria pronuncia sono, qualsiasi cosa vi dirà, fatela. Come per dire, cari cristiani, qualsiasi cosa vi dice Gesù. Non abbiate paura, fatela per la vostra vita, per avere una vita piena di gioia. Quindi, per concludere, tre piccoli punti riassuntivi. Il primo, guarda bene la tua vita e anche la tua fede, se sono come leggiare. Perché se sono come leggiare, inizia ad assaggiare il vino del Vangelo. Un Dio che ti ama, un Dio che ti perdona, un Dio che vuole essere al tuo fianco nel cammino della vita. Punto due. Fai come Maria, punta la gioia. Innanzitutto, per te, per viverla. E così potrai donarla agli altri. Fatti riempire la vita della gioia di Gesù. E il terzo punto. Ascolta le parole di Gesù. Non avere paura dei miracoli. Credere in Dio e gustare il sollievo del peso della vita. È il grande miracolo che noi dobbiamo vivere ascoltando la parola di Dio. Allora, siamo anche noi invitate a Cana. A vedere la nostra vita, ad ascoltare Maria e a vivere ciò che Gesù ci chiede.